Eccoci qua, Vinitaly Stand Cusumano. Siamo qui con Diego Cusumano che ci presenterà una novità interessante, una sorta di restyling effettivo delle etichette e possiamo denominarlo, come abbiamo appena letto, con la terminologia molto viva, molto accesa, touching experience. Sì, in realtà abbiamo fatto quest'anno un restyling delle nostre etichette che è partita da una base molto semplice, quello di dare un'identità forte ai cinque territori che compongono la nostra azienda e così come i territori presentano una connotazione unica che li differenziano uno dall'altro, allo stesso modo abbiamo voluto creare questa esperienza tattile nelle etichette, tale da poter, toccando un'etichetta nella parte centrale, abbiamo il rilievo del vigneto dove è stato prodotto quel vino. In questo caso, ad esempio, il nostro clou di Chardonnay Yalet, della nostra tenuta Ficuzza, abbiamo un disegno fatto da un designer che riprende la forma del ventaglio dal cui nasce il nostro vigneto di Chardonnay. Tutto questo chiaramente è declinato in ogni tenuta, quindi partiamo dal territorio di Butera, così come al territorio di Monreale ed infine il vini dell'Etna con la nostra nuova azienda Altamora. Il messaggio che vogliamo chiaramente lanciare è che ogni vino è frutto del suo territorio, esiste questo matrimonio ideale tra vitigno e territorio che poi si esprime attraverso ogni singolo vino e che l'azienda ha il compito continuo di questa ricerca per trovare la migliore sinergia tra vigneto e suolo, territorio, microclima, tutti elementi che poi condizionano e danno un printing particolare, uno stile particolare a ogni singolo vino. Perfetto, diciamo che quindi la varietà delle etichette si riflette sulla varietà dei territori mai come adesso. Esatto, esatto, proprio questo è l'aspetto fondamentale. Allora, secondo noi il passo adesso successivo dopo il grande successo del brand Sicilia in tutti i mercati mondiali è quello di riuscire a comunicare ogni produttore le specificità del singolo territorio, perché ricordiamoci sempre che la Sicilia è un continente vitivinicolo, è l'unico posto al mondo in cui la vendemmia inizia il primo di agosto e finisce l'ultima settimana di ottobre o in alcuni casi la prima di novembre sull'Etna. Tre mesi di vendemmia, tre mesi di vendemmia che si ripercorrono in un'unica regione. Questo ci rende veramente questa differenziazione e una ricchezza senza pari. Ed è una ricchezza che si può scoprire con le etichette, tutte le etichette di Cusumano dall'inizio fino alla fine. Grazie mille Diego. Grazie a voi, grazie di buono.